Hola Youtubers, il primo Natale del vaso di Pandeva e voglio far sempre un po' l'alternativo, ecco Vabbè, torniamo alla normalità Innanzitutto volevo darvi i miei personali auguri, non ve li do io, ve li da lui Se Con l'occasione oggi parte il concorso Hola Youtubers Ma in cosa consiste il concorso Hola Youtubers Basta! Prendete la fotocamera, il vostro cellulare, la vostra webcam, quello che volete Registrate il vostro Hola Youtubers E fatemelo bene inserendolo come video risposta in questo video oppure inviandomelo alla mail Dave at ilvasodipandeva.com Gli Hola Youtubers più belli saranno utilizzati nei prossimi video come apertura Cioè non so se avete capito, sarete voi ad aprire i prossimi video del vaso di Pandeva Fatelo a testa in giù, fatelo fare ai vostri amici durante il scenario di Capodanno Fatelo fare a vostra nonna E insomma come al solito sbizzarritevi Loro l'hanno già fatto Hola Youtubers Hola Youtubers Hola Youtubers Buon Natale Mancate solo voi Buone feste e un salutone dal vaso di Pandeva Il 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 vaso di Pandeva Prendete la foto Io oppure mandandolo, mandandolo a una mail E fatemela bene inserendolo come Widdles Cari amici e cari amiche un saluto Ah no no scusate non era questa Hola Youtubers Sono Vincenzo Salette E fatemelo bene inserendolo E fatemelo bene inserendolo E fatemelo bene inserendolo Benvenuti ad una nuova puntata del vaso di Pandeva Il vaso di Pandeva Il vaso 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 Di 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 Grazie a tutti.